Ciao a tutti! Nel video di oggi vi mostrerò come utilizzare chat GPT per creare un'intera campagna di marketing in modo rapido ed efficace. Siete pronti? Allora cominciamo! Oggi voglio condividere con voi un metodo rivoluzionario per creare una campagna di marketing completa utilizzando chat GPT. Sì, l'avete sentito bene. Un robot può sostituire un esperto di marketing umano? La risposta potrebbe sorprendervi. Ma prima lasciatemi spiegare come funziona tutto. Perché chat GTP? Perché chat GPT è un potente strumento di intelligenza artificiale che può aiutarvi a generare contenuti, pubblicità e materiali di marketing. Tuttavia ci sono alcune cose importanti da tenere in mente. Prima di tutto chat GPT funziona al meglio con contenuti fino al 2023. Se il vostro settore richiede tecnologia all'avanguardia e scambia rapidamente, in secondo luogo chat GPT è un robot che risponde alle vostre domande. Potrebbero esserci alcune limitazioni, ma la qualità delle risposte dipende dalla qualità delle domande che gli rivolgete. Quindi è fondamentale fare domande chiare e pertinenti. Come ottenere migliori risultati? Ora che conoscete le basi, vediamo come ottenere migliori risultati con chat GPT. I prompt sono la chiave per ottenere contenuti di qualità. Utilizzate il seguente framework. Strivimi tipo testo, che sia stile e tono, evidenziando caratteristiche. Ad esempio potete chiedere a chat GPT di scrivere un annuncio su Facebook che sia persuasivo, divertente e colloquiale, mettendo in risalto i vantaggi e l'importanza della strategia di marketing. Altri strumenti utili per generare testi. Ma per immagini e pagine di vendita avrete bisogno di altri strumenti. Posso consigliarvi da lì per generare immagini realistiche a partire da descrizioni in linguaggio naturale e lensa per modificare le immagini in modo creativo. Esempi pratici. Ora passiamo ad esempi pratici. Utilizzando chat GPT potete creare una pagina di vendita per il vostro prodotto o servizio. È possibile apportare modifiche per personalizzarla. Potete anche chiedere a chat GPT di scrivere un articolo di blog sull'importanza della strategia di marketing e utilizzarlo per aumentare il tra verso il vostro sito. Ma non finisce qui. Chat GPT può anche generare sequenze di email e SMS per promuovere il vostro prodotto. È incredibile quanto velocemente si possono ottenere risultati di marketing efficaci utilizzando questa tecnologia. Conclusioni? In conclusione chat GPT è uno strumento potente che può migliorare la vostra strategia di marketing. Ricordate che è necessario avere una mente creativa e strategica per utilizzarlo al meglio. Se volete scoprire ulteriori esempi sull'utilizzo di chat GPT nel marketing e le tendenze più importanti, vi invito a guardare il video successivo che è ricco di consigli e strategie di marketing appunto. Grazie mille per avermi seguito. Sono sicuro che otterrete risultati straordinari utilizzando chat GPT nella vostra campagna di marketing. Se lo fate, scrivetemelo qui nei commenti. Ci vediamo nel prossimo video. Iscrivetevi al canale. Ciao!